Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial In questo nuovo video vi spiego come costruire e guidare un drone Ovviamente si sblocca nella tier 2 il banco da lavoro di livello 2 Una volta sbloccato ragazzi dovete anche sbloccare il banco per la videosorveglianza Se no il computer per la videosorveglianza Se no è inutile guidare il drone, è inutile farlo Quindi ovviamente ci serviranno due rifiuti tecnologici 200 frammenti di metallo e una telecamera E adesso lo costruisco E non mi resta che portarlo sopra e posizionarlo E poi vi spiego come collegarlo al computer di videosorveglianza Lo posiziono sul tetto Imposto l'id, quello che voglio Metto 01 Lo imposto Ecco la videosorveglianza Aggiungo così 01 Clicco su 01 ed eccolo qua Premo il tasto shift e comincio a volare E con il tasto W, A, S e D Posso girarmi, posso fare quello che voglio E per abbassarmi devo premere il tasto per accovacciarmi Quindi se premi il tasto per accovacciarti Lo premi una volta Il drone comincia a precipitare Esatto, comincia a precipitare Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 Ciao